Dove stai andando? Dovunque mi guida la luce di quella stella. La Basilica di Sant'Eustorgio a Milano, nelle immediate vicinanze di Porta Ticinese, dietro la facciata ottocentesca, nasconde una storia affascinante e misteriosa del Medioevo profondo che ci riporta alle origini della cristianità. Quando nel 343 il Vescovo di Milano, Eustorgio, fa ritorno da Costantinopoli con le reliquie dei tre re magi, dono di Elena, madre dell'imperatore Costantino. Elena, venerata come santa imperatrice dai cristiani, le aveva portate a Costantinopoli dalla Palestina insieme alla vera croce di Gesù. Per oltre 800 anni la chiesa di Sant'Eustorgio è la tappa obbligata per i pellegrini che, dal nord, si dirigono a Roma e poi a Gerusalemme. Fino all'11 giugno del 1164, quando il cancelliere di Federico I di Svevia, detto il Barbarossa, rade al suolo Milano e svuota delle reliquie il mastodontico avello di pietra grezza, nel quale sono conservate. Troveranno posto in una sfarzosa arca della cattedrale di Colonia, a dimostrazione della legittimazione divina del nuovo potere imperiale. Solo agli inizi del Novecento una piccola parte delle reliquie viene restituita alla Basilica di Sant'Eustorgio, che non ha mai smesso di essere per i milanesi uno specialissimo luogo di fulgo. In questa parrocchia si vive una storia veramente profonda, perché sono pietre vive, noi abbiamo un'eredità, l'eredità di Eustorgio, che non è solo quella di monumenti, ma è una chiesa viva. Alla mia spalla c'è la cappella dedicata ai Magi, dove custodisce parte delle reliquie che sono state restituite. C'è un bellissimo basso rilievo in marmo, dove viene rappresentata l'adorazione dei Magi. Quello dietro è il sarcofago dei Re Magi, sepolcon trium magorum, è il sepolco dei Re Magi, del marmo fasciato del Peloponneso. Infatti quando il professor Federico Zeri è venuto a visitare quest'urna ha subito detto questo non è un marmo locale. Ecco la quinta colonna, riproduce proprio il trasporto di questa grande urna, con due buoi davanti e un carro dietro. Arrivati qua, i buoi si fermano, non vogliono andare neanche un millimetro avanti. Eustorgio dice, è giusto che costruiamo proprio qua la cappellina. E poi anche il Signore ha voluto che questi corpi sono stati onorati perché lasciano tanta eredità a noi tutti, a noi tutti che viviamo oggi. La Bibbia racconta poco di Re Magi ma siamo venuti per adorarlo, ci fa capire tanto quale significato hanno avuto nella storia della salvezza di ciascuno di noi questi tre personaggi. Questa adorazione, questa manifestazione hanno riconosciuto Gesù che è presente nella nostra vita.